e non lo so allora siamo qui al lago di fiastra occhio Enrico c'è le canne c'è le canne la temperatura 20 gradi stiamo andando sotto il ponte leggero vento a fianco sta passando il fenomeno eccolo qui formazione da competizione o comunque non posso parlare più di tanto ma vivo asciutto parecchio ecco stiamo passando sotto il ponte parecchio vento comunque dura l'acqua e senti c'è corrente ecco fra un po scopriamo lanza non no 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 è calda è calda l'acqua è la gelata adesso qui ci apprestiamo ad arrivare alla spiaggia di fiastra è calda l'acqua di sole sì è calda l'acqua è calda è calda è calda è calda Buongiorno faccio le armi eh la 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 com'è? si ferma lì? siamo in un'alza della spiaggiuola di fiastra hai finito a girarmi con questa zanzara intorno al kayak mio questa specie di canoa questa non si muove oggi è un sommergibile ma guarda che bello secondo me è più bello è più selvaggio adesso provo un attimo dal comando arresta video arresta video gopro arresta video arresta video arresta video viaggiu ciao 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 ciao